Buon pomeriggio, ben ritrovati con Io Radio, quest'oggi avevamo una puntata un po' diversa ma alla fine avevamo scaturita dalla settimana scorsa un incontro con il ex vice sindaco di Statte, Consigliere Comunale di Statte Luciano De Gregorio, un incontro carificatorio con Mancarelli, il segretario provinciale del PD che insieme a lei dovevamo fare chiarezza sulla questione delle discariche nella città di Taranto. Mancarelli non è potuto venire quindi mi è sembrato opportuno far restare a casa anche Luciano De Gregorio che salutiamo se ne diamo tutti e due, poi magari se volete intervenire in diretta lo potete fare pure e come vedete abbiamo con noi qui Alessandro Marescotti, il professore Alessandro Marescotti di Pace Link, lei è il primo uomo a Taranto in contrapposizione con i comportamenti delle fabbriche in generale ma soprattutto quella dell'Ilva. Buonasera. Grazie per l'invito. Allora, oggi cade insomma anche in una giornata purtroppo in fausta perché c'è stata un'altra ennesima tragedia, non tragedia ma la tragedia potrebbe accadere da un momento all'altro visto che c'è stata una fuga di gas nell'area caldo dell'Ilva di Taranto e pare siano stati evacuati tutti gli operai, è messo in un'area sicura ma la città non è stata messa ancora al corrente di ciò che è accaduto veramente, ma se succede qualcosa di più grosso come fanno ad evacuare gli abitanti dei tamburi, professore? Questo è un grosso problema, prima però vorrei mettere in chiaro, io non sono l'uomo contro l'industria. Non contro l'inquinamento, contro l'inquinamento, ma chi non lo è? Voglio dire, è uno dei primi uomini in prima linea, nella trincea, perché ci sono tante, anzi da lei sono scadute anche a Taranto, non lo possiamo negare, tante altre associazioni ambientaliste che poi etichettate ambientaliste, cosa significa? Spieghiamo alla gente cosa significa la parola ambientalista prima di tutto, perché sembra che l'ambientalista per qualche politico sia una parolaccia. La parola ambientalista significa avere a cuore il futuro di questa città, sapere che dall'ambiente scaturiscono problematiche che riguardano anche la nostra salute, che quando andiamo a mangiare stiamo mangiando qualcosa che ha a che fare con l'ambiente, purtroppo a Taranto abbiamo visto che l'inquinamento ad esempio da diossina è entrato nelle cose che per tanto tempo abbiamo mangiato, per cui essere ambientalista dal mio punto di vista non significa occuparsi di qualcosa di diverso da se stessi, significa sostanzialmente occuparsi di se stessi, della propria famiglia, dei propri figli e di coloro i quali verranno, quindi ambientalista significa avere qualcosa di più in termini di responsabilità. E poi è una cosa che riguarda la legge, ecco io dal 2007 mi sto occupando in maniera pressante della questione dell'ILVA e dal 2007 abbiamo cercato di scegliere una strada ragionevole che era quella della messa a norma degli impianti e per diversi lunghi anni abbiamo creduto nella messa a norma degli impianti, ma poi è venuta la magistratura e ha detto che quegli impianti che noi volevamo fossero messi a norma, proprio perché non erano stati messi a norma sono impianti pericolosi, quello che è successo oggi ne purtroppo sembra essere la conferma, allora sono sei impianti dell'area a caldo che sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura perché considerati pericolosi, sono attualmente ancora sotto sequestro, però con facoltà d'uso, la facoltà d'uso è collegata al fatto che vengano messi a norma, purtroppo dal 2012 fino ad oggi in buona parte non sono stati messi a norma, proprio lì dove avevano maggiore necessità di essere messi a norma e pertanto la posizione che ho io, la posizione che hanno diversi ambientalisti, la posizione che ha Peace Link, che è l'associazione che rappresento, non è quella di una pregiudiziale lotta all'industria, ma è di un'applicazione della legge per cui a Taranto sono state fatte 11 leggi per scavalcare la legge nazionale, quello che vale per Roma, quello che vale per Roma, i famosi 11 che poi sono quasi arrivati a 12, 12, abbiamo quasi perso il conto, 12 decreti, salva ilva che servivano a dire che a Taranto non si applicava la legge nazionale, si applicava una legge speciale per Taranto. Ma c'è anche una legge speciale per Taranto per poterla far rifiorire, per poter fare in modo che Taranto rinasca sotto il profilo ambientale ed economico, ma di questo si ha notizie. Poi voi, poi lo facciamo dopo questa domanda, perché riguarda anche l'Europa, voi avete fatto vari esposti anche alla Commissione Europea Ambientale, ma non ha scaturito se poco quasi nulla. Ci sono state due procedure di infrazione che sono state unificate e attualmente l'Italia è ancora sotto procedure di infrazione. Da questo punto di vista siamo in una situazione di stallo che dura da molti anni, dura dal 2013, è una situazione di stallo per cui la Commissione Europea non ha dato ragione né a noi né al Governo, ma il fatto che abbiamo portato argomentazioni abbastanza solide da mettere sotto accuse al Governo e che il Governo, nonostante tutti i suoi tecnici, non sia riuscito a togliersi le accuse che abbiamo orientato verso le inadempienze del Governo, questo dimostra che avevamo portato argomenti abbastanza solidi, ma voglio dire che gli argomenti che portavamo erano gli argomenti anche della... Interviene già Luciano De Gregorio che salutiamo e che non è venuto, ma non abbiamo reso possibile perché Mancarelli non è potuto essere qui con noi e quindi non c'è il contraddittore, dice sequestrate le discariche e l'area Mater Grazie senza facoltà d'uso. Quindi che significa? Che fine hanno fatto le bonifiche? Sì, oltre a quello che abbiamo detto, cioè che questi sei impianti sono sotto sequestro... Guardate qui i sversamenti, cioè questa è tutta aria... Questa è la cocheria... La cocheria, questo è tutto... Questi sono i... Va tutto a beneficio degli abitanti dei tamburi, si fanno i sulfumi, come si chiamano i sulfumigi con queste belle vampate... Queste sostanze sono non solo cancerogene, ma sono potenzialmente genotossiche, cioè possono incidere su quello che è il DNA che i genitori trasmettono ai bambini, questa è un'ipoteca potenziale sul futuro. A chi dobbiamo tutto questo? Dobbiamo soprattutto all'incuria della politica, anche a una certa disattenzione dei cittadini. A proposito, io per oggi avevo chiamato anche l'Onorevole Vico, che probabilmente, li credo, è fuori, non lo so se sarà a Roma, qualche commissione, qualche... Ecco quello, vediamo Ludovico Vico. Lei che rapporto ha con Ludovico Vico? Tantissimo tempo fa, intorno alla fine degli anni Ottanta, io ho collaborato con Ludovico Vico perché eravamo insieme nell'Associazione per la Pace e insieme all'Associazione Legambiente facevamo una serie di iniziative. A quel tempo Ludovico Vico, che non era ancora onorevole, ma era dirigente della CGL, era schierato su posizioni verdi, su posizioni ecopacifiste, quindi collaboravamo insieme. Poi ha preso altre direzioni il suo impegno. Beh, vabbè. Poi c'è stato anche chi ci ha rappresentato successivamente l'Onorevole Penillo, perché parliamoci chiaro, no? Di onorevoli che hanno rappresentato il territorio in questi ultimi anni ce ne sono stati pochi. Anzi, in questa legislatura, quella dal 4 marzo, invece abbiamo addirittura 4 onorevoli eletti nel collegio di Taranto. Ma lei li ha sentiti? Ha un rapporto con loro? Stanno facendo qualcosa? Stanno spingendo qualcosa? Poi parliamo di Di Maio, quello che è venuto a dire a Taranto. Prego. Allora, per quanto riguarda i parlamentari della zona di Taranto, c'è stato un confronto, come pure c'è stato un confronto con il Ministro dell'Ambiente, il Ministro Di Maio, il Ministro Grillo. Il confronto c'è stato con tutti, ed è un confronto aperto, perché se uno ha a cuore la propria città non può non confrontarsi con queste persone. Mariscotti, ma è vero o non è vero che loro non potevano rigettare il contratto? No, assolutamente, potevano fare quello che volevano. Se in un contratto io ciò che l'Italia ha delle bombe che possono essere vendute a una potenza straniera, e poi a un certo punto questa potenza straniera ritengo che possa essere inaffidabile... Lei ha capito perché Di Maio non è riuscito a rigettare quel contratto, tra l'altro non riscrivendo la norma e la formula per l'immunità penale? Di Maio aveva tutti gli strumenti per rendere impossibile, tra virgolette, la vita ai nuovi acquirenti, alla multinazionale ArcelorMittal, e gli avevamo portato circa 150 pagine... Ha fatto molti incontri, ha dato soddisfazione, siete stati più volte... Ci ha incontrato, ma sui punti fondamentali, lì dove spiegavamo quali erano le strade per poter applicare la legge e fermare gli impianti sotto sequestro, su questo non ha risposto e ha detto che erano impossibili delle cose che invece era possibile fare, perché la sua agenda segreta era quella di concludere un accordo con i sindacati e avere un atteggiamento di pura facciata nei nostri confronti, ci ha fatto andare 5 volte a Roma, non abbiamo fatto le vacanze, quindi non è stato un'estate piacevole, abbiamo impegnato tutte le vacanze per spiegare al governo che cosa poteva fare con l'ILVA e come potevano essere fermati questi sei impianti sotto sequestro, senza neanche darci delle motivazioni, il governo non ha fatto nulla, non ha toccato neanche... Ha detto che loro non potevano rigettare un contratto che era già stato firmato e andava solo consegnato, perché non c'erano le caratteristiche per tornare indietro perché c'era una penale da pagare Arcelor Mittal, questo corrisponde al vero, cioè ci sono delle... Allora diciamo che questa cosa avrebbe avuto sicuramente uno strascico in termini di penali... Ma anche a livello occupazionale, perché il governo non poteva portare avanti questa dilaniante perdita mensile di denaro... Però vediamo una cosa per voi, allora la questione delle penali è una questione che poteva entrare in gioco, ma che poteva anche non entrare in gioco, cioè nel senso che se il governo avesse fatto una norma che avesse stabilito che l'immunità penale veniva cancellata, la prima mossa che avrebbe fatto Arcelor Mittal sarebbe stata noi non vogliamo venire a Taranto senza l'immunità penale, quindi avvenire meno rispetto al contratto sarebbe stata l'azienda, sarebbe stata Arcelor Mittal, non sarebbe stato il governo, quindi se avesse voluto fare una mossa vincente senza pagare penali, il governo avrebbe dovuto semplicemente togliere l'immunità penale, poi avrebbe potuto anche modificare il DPCM. Secondo lei perché non l'ha fatto? Ma semplicemente perché non avevano un piano B, perché non avevano previsto, nonostante durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle avesse parlato di riconversione, non ho scritto neanche 10 pagine, neanche due pagine sulla riconversione. Ma questa pressione di Calenda quando c'era questa questione, questa pressione dell'ex governo non ha influito secondo lei? Calenda? Calenda si è dato molto da fare nel momento in cui Di Maio stava trattando questa questione. Allora Calenda aveva un suo piano e il piano di Calenda dal punto di vista ambientale era un pochettino più rigido rispetto a quello di Di Maio. Di Maio si è reso flessibile sulle questioni ambientali, il piano di Calenda... Perché voleva comunque più occupazione rispetto a Calenda? Esatto, c'è stato un baratto tra la flessibilità sul piano ambientale e l'occupazione, cosa che con Calenda invece non c'era, nel senso che per passare dalla produzione di 6 milioni a 8 milioni bisognava prima aver applicato tutte le prescrizioni, questo con il governo PD. E quindi era più rigoroso il passaggio da 6 milioni a 8 milioni. Con questo governo il passaggio verso gli 8 milioni è consentito da una maggiore flessibilità. Non entro nel dettaglio tecnico, se vogliamo lo facciamo, però il... Dobbiamo far capire alle persone, cioè questo scopo, lo scopo di Io Radio, di Io TV, in questo momento storico di questa città che non ha più politica, non ha più riferimenti. Devo dire con grande dispiacere che anche chi è stato eletto nell'ultimo governo e rappresenta la città in questo momento non è molto presente, non ci sta facendo capire realmente quello che sta accadendo. Io ho invitato Rosa D'Amato che mi ha detto che appena a Taranto viene nei nostri studi. E i parlamentari? E i parlamentari devo invitarli, io volevo parlare prima con lei, perché anche io mi devo fare una certa cultura invece di dire bagianate come ne dicono in giro tante, volevo prima avere contezza di quella che... le risposte che io potevo dare alle opposizioni che possono fare i politici. Ok? Cioè non vado a parlare tanto per, ma per documentarmi uno dei più rappresentativi in questo territorio, Alessandro Malescotti. Non me ne voglia nessuno, non è che ci sono altri luminari, però Alessandro segue questa storia ormai da più di vent'anni. Diciamo dal 2007 in maniera specifica e dal 2001 sulla questione della comunità. Va bene, poi parleremo con i rappresentanti del governo. Io inviterò Rosalba De Giorgi, inviterò Turco, Vianello, vedremo. Intanto l'Adamato mi ha promesso che appena a Taranto viene, anche se l'Adamato è un po' defilata in questo momento sulla questione ILVA, perché dall'Europa, sembra che il partito, oddio, il movimento si sia un attimo staccato. Non ha dei collegamenti, cioè non ha quei famosi collegamenti neuronali collegati in questo momento. In Europa avevano portato avanti la battaglia per la chiusura dell'ILVA, poi dopo, adesso che sono arrivati al governo, non hanno modificato la... E come non fanno? Come fanno a non allinearsi alla linea di Di Tornaio? Perché... Cioè, e poi diventa una questione politica, no? Perché vieni fatto fuori, tra virgolette, se tu non rispetti quello che ha fatto il tuo ministro italiano. Purtroppo, almeno dal mio punto di vista, non si rivelano dei portavoci della collettività, ma dei portavoci del governo. Non me ne vogliano, ma questa è l'impressione che io ho avuto. e dal punto di vista della strategia che è stata portata avanti da questo governo, la strategia è stata quella di fare degli incontri con la società civile Trantina, senza però recepirne neanche una richiesta, neanche la richiesta dell'abolizione dell'immunità penale, che era quella più evidente, più ragionevole. L'altra cosa era quella di ragionare su questi sei impianti sotto sequestro, che se viene prolungato il loro funzionamento fino al 2023, i risultati sono quelli di oggi, sono impianti piuttosto vecchi, sono impianti che in parte non sono messi a norma, che sono sotto sequestro con facoltà d'uso a condizione che vengano messi a norma. Se si dà un tempo fino al 2023, da qui fino al 2023, può accadere di tutto, non solamente sotto il profilo della sicurezza, ma anche sotto il profilo della salute. Quante persone si ammaleranno? Quante persone moriranno? Voglio chiedere a chi ci sta seguendo di condividere questa diretta a quante più persone possibili e farci delle domande in questo momento che abbiamo Mariscotti in studio, anche domande che normalmente non uscirebbero fuori, non voglio parlare degli altri media. Noi in questo spazio abbiamo sete di verità, di giustizia e vogliamo il bene della nostra città. che è la cosa importante. Su questo io non prescindo. Allora, il sindaco di Taranto avrebbe potuto incidere sulla chiusura dell'Ilva o comunque avere un ruolo importantissimo non ritirando la sospensiva dell'AIA? Allora, il sindaco di Taranto ha fatto una cosa giusta insieme al Presidente della Regione Emiliano, impugnando il decreto. Inizialmente sì. Sì, impugnando a suo tempo, l'anno scorso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dava tempo fino al 2023 per la messa a norma degli impianti che garantiva l'immunità penale fino a quella data, entrambi sia il sindaco che il Presidente della Regione hanno fatto bene a impugnare quel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma questa ormai è storia vecchia perché a un certo punto è arrivato Calenda a Taranto e il sindaco Melucci ha cambiato idea repentinamente. E questo è un fatto molto grave, è un fatto molto grave che senza che vi sia... Si vociferano anche delle altre cose, tra l'altro il sindaco Melucci ha rotto con Emiliano. Io non entro nel merito politico. No, no, il merito politico però voglio dire che ci sono delle azioni che vanificano tutto quello che può essere fatto per la città e per i cittadini e non sappiamo quali sono i veri motivi. Cioè perché Melucci ha ritirato o ha sospeso il ricorso all'AIA? Perché pare che non l'abbia ritirato completamente. Cioè è sempre con il coltello puntato ma in questo momento non è offensivo. Sembra che abbia detto che ha intenzione di ritirare l'azione con la quale ha impugnato davanti al TAR il DPCM. Sembra che la sua intenzione sia quella di ritirarlo, per cui il mio appello privo di qualunque coloritura politica al sindaco è quello di non fare assolutamente questa cosa altrimenti apparirebbe come un volta faccia. Non sono... No, no, l'ha già fatto perché comunque pare ha voglia anche... Ha dichiarato di volerlo fare. Sì, sì, ha dichiarato di volerlo fare. No, ma nella sostanza ha abbracciato quella che è la politica di Arsero Mittal. È uscito con un'area di distensione con la fabbrica, di colloquio, di apertura, di rinnovamento. Però se non vediamo le bonifiche, se non capiamo qual è la tempistica per poter mettere a norma gli impianti... Cerchiamo di capire. Il DPCM, che è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui viene dato tempo fino al 2023, un tempo esagerato per la messa a norma di impianti che devono essere già messi a norma nel 2015, questo tempo esagerato è stato considerato sia da noi, sia dal Presidente della Regione Emiliano, sia dal Sindaco di Taranto, un regalo a Arsero Mittal. La nostra posizione era che noi abbiamo fatto insieme a Cittadini di Taranto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che è ancora in corso. Probabilmente l'intenzione del Sindaco di Taranto era quella di accorciare i tempi, dire che viene messa a norma anziché entro il 2023 si compia in tempi più rapidi. La nostra posizione invece è che una volta che sono scaduti tutti i termini, nel 2017 dovevano essere fermati questi impianti, e questo lo diceva la legge, non lo diciamo noi, ci sono ecco diversi modi, diverse ragioni per cui si impugna di volontà al Tar questo decreto. Noi riteniamo che comunque non vada ritirato il ricorso. Ma lei ha avuto degli incontri col Sindaco? No. Non riesce a parlarci? No, ma anche perché lei non lo cerca, giustamente. Sì, voglio dire, se il Sindaco vuole ritirare il ricorso non è che staremo lì a pregarlo in ginocchio, anche perché noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo raccolto dei fondi e abbiamo fatto il nostro ricorso. vorrei che fosse molto chiaro che da qui al 2023 ci possono essere danni alla salute, danni all'ambiente e che questo è un tempo irragionevole per mettere a norma gli impianti. Ma quei nuvoloni bianchi, questo a confermare quello che diceva un onorevole o a sconfessarlo, il vapore acqueo è solo vapore acqueo o contiene anche delle... contiene ammoniaca, contiene idrocarburi policiclici aromatici, in particolare contiene il benzopirene che è cancerogeno e genotossico, le nubi contengono polveri che attualmente sono fuori norma. E quello che fuoriesce invece dall'E312, cos'è? Quella è, allora dall'E312 che è il cammino blu, molto scenografico con le strisce bianco e rosse, sono quello che vediamo ovunque, ovunque ci troviamo nella città di Taranto, lui è sempre presente, il cammino blu, quindi da quel cammino blu cosa esce, cosa ci offre l'Ilva da questo cammino? Allora, quello era un cammino, quando non era dipinto, da cui fuoriusciva a detta dell'Arpa una quantità di diossina pari a 10.000 inceneritori, attualmente quello è un cammino... Di Cernobil ci fa una... No, non voglio dire Cernobil, comunque diciamo, in genere è bene che lo sappiamo... Questo è quello che si presenta di notte... Diciamo che la lotta che abbiamo ingaggiato per limitare la diossina, ha portato al fatto che da quel cammino invece di fuoriuscire la diossina di 10.000 inceneritori attualmente siamo intorno ai 5.000... 300-500... Beh, noi siamo fortunati, nella sfortuna siamo fortunati... 300-500 inceneritori... Abbiamo 500 inceneritori in un'area ristretta... Esatto, sì... Siamo davvero fortunati... Il risultato rispetto al passato è un notevole miglioramento, ma dire che stiamo bene assolutamente no, anche perché lì dovrebbero essere installati i famosi filtri a manica, i filtri Meros, Arcelor Mittal invece dice no, non mettiamo i filtri a manica, mettiamo i filtri ibridi, noi abbiamo fatto dei conti... Perché costano di meno? Perché costano di meno e tutto questo è stato presentato come un addendum migliorativo. Allora, l'accusa che facciamo a Di Maio è quella di aver accettato questo addendum migliorativo, che poi in realtà non è un addendum migliorativo, anche perché prevede un incremento della produzione del 66%, attualmente siamo a 4,8 milioni di tonnellate di acciaio, si potrebbe arrivare a 8, quindi è un aumento del 66% a fronte di una promessa del taglio di circa il 30% delle polveri, ma se aumenta del 66% e si taglia del 30%, noi che lotta abbiamo fatto? Abbiamo fatto la lotta per chiudere l'ILVA e poi avremo un incremento delle polveri, e anche un incremento della CO2, perché le emissioni di CO2 sono altamente impattanti sul clima, su quello che viene considerato... Qual è l'emergenza? Cosa andrebbe fatto per prima? Cosa andrebbe chiuso? Cosa andrebbe bonificato e poi riconvertito? Allora, premesso che la nostra posizione è che questi impianti vadano fermati, e come il ponte di Genova, se ci fosse stata una perizia prima e avesse detto questa perizia che questo era un ponte pericoloso, sarebbe stato fermato, non sarebbe stato messo sotto sequestro con facoltà d'uso, invece quello che è successo a Taranto è che è stato messo sotto sequestro con facoltà d'uso, solo che se ci sono dei morti questi non si vedono. Come oggi, un alto forno che mi pare è sotto sequestro, ha avuto un malfunzionamento e ha errorato gas letale per l'uomo, e come si fa ad avere degli impianti che sono sequestrati con facoltà d'uso e che provocano danni, continuano a provocare danni? Questi sono impianti molto vecchi, sono impianti che risalgono in parte agli anni 60 e in parte agli anni 70, è come se avessimo una vecchia 124, che volessimo rendere più tra l'oretta ecologica, ma è bene che lo sappiano gli ascoltatori, da impianti che sono stati fatti negli anni 60, negli anni 70, non otterremo mai degli impianti all'avanguardia, per avere degli impianti all'avanguardia, realmente compatibili con la città, bisogna fare degli investimenti su impianti assolutamente nuovi, con caratteristiche completamente nuove, non voglio dire rivoluzionari, ma con caltamenti innovative. Però stanno coprendo i parchi, secondo lei è un'operazione che ci porterà qualche risultato benefico o stanno facendo un palliativo che ci porterà, che cosa, ecco i parchi, la copertura dei parchi, che qui vediamo una rappresentazione in 3D di come sarà realizzata, sono realmente efficaci e ci daranno protezione per le polveri, almeno ai tamburi o è un'emerità? Allora, in parte può servire, perché ovviamente qui abbiamo il quartiere dei tamburi, quando ci sono i wind days, queste polveri vanno sulla città, ma quello che molti non sanno è che in questa zona, oltre ad esserci cumuli di materie prime, ossia minerali di ferro e carbone, ci sono, o almeno c'erano, anche dei cumuli di rifiuti speciali, perché erano rifiuti speciali che venivano reinseriti nel ciclo produttivo, allora questi rifiuti speciali arrivavano sui balconi, arrivavano dentro le case della città, sono rifiuti speciali che hanno provato a portarli in Sicilia, i siciliani si sono ribellati e invece noi li riceviamo ogni volta che arriva il vento dal nord ovest, quindi questa operazione è un'operazione di emergenza. Se lei è al corrente, ma penso di sì, ma quali sono i minerali che stoccano qui? Cioè, che cosa arriva in questo parco minerali? Che tipo di minerali e che tipo di materiali sono? Allora, i minerali… E poi parliamo minerali… Allora, abbiamo il minero di ferro e abbiamo il carbone. Il minero di ferro fa male o non fa male? Allora, sicuramente non fa bene respirarlo, ma ciò che fa male non è tanto solo il carbone e solo il ferro, ma è il polverino d'alto forno stoccato lì, che praticamente è il frutto del filtraggio che avviene nell'alto forno, sono le scaglie della relazione, sono i fanghi… Ma vengono rimessi lì? Vengono rimessi lì. Molti non lo sanno e noi siamo venuti a saperlo grazie ad Arcelor Mittal, che ha detto… E che cosa ne fanno poi di questa loppa, più o meno sbriciolata? No? Di questo scarto… Quando c'è il vento va sulla città. Sì, ma non viene riutilizzato per il ciclo industriale? Allora, veniva riutilizzato nel ciclo industriale. Adesso ci sono delle prescrizioni che stabiliscono cosa può essere utilizzato e cosa non può essere utilizzato. In parte è stato anche coperto in questi cumuli di rifiuti speciali. Però ecco, è importante sapere che in quest'area c'era di tutto e di più. Questo è il mostro che verrà mostro. Sono due capannoni da 80 metri di altezza per quasi quanti chilometri quadrati di estensione hanno? Sono diverse decine di campi di calcio. Quindi sono centinaia di metri quadrati coperti per un'altezza di 80 metri. Tutto questo si poteva non fare se veniva ristrutturato il ciclo produttivo. Ad esempio, se a Taranto fosse stato realizzato un nuovo ciclo produttivo con i nuovissimi impianti, dico alcuni, Meros, gli impianti Finex, Corex, che sono impianti di nuova generazione, non è necessario fare questo e non è necessario neanche avere il carbone. Ci sono tecnologie che superano il carbone e che non hanno bisogno di tutto questo. La stessa proposta di Emiliano della decarbonizzazione praticamente faceva meno di questo. Ma sarebbe stata possibile la decarbonizzazione? Quanto sarebbe costato a darselo a metà? Il problema fondamentale è che una ristrutturazione di tutte le tecnologie dell'area a caldo ha un costo notevolissimo. elevato. Che però poteva essere sostenuto nel periodo d'oro dei Riva, quando i Riva si sono portati a detta delle indagini della Guardia di Finanza, cospicui capitali. Quel miliardo e due è ritornato? Sì, mi pare di sì. Sì, doveva servire per la politica. Eccoli qua. Purtroppo uno dei due non c'è più. L'altro, il figlio Fabio, è ancora attualmente a capo dell'azienda e altri impianti. Adesso è stata tolta l'azienda. Diciamo che nel periodo d'oro dei Riva sono stati fatti tanti di quei profitti che invece di essere reinvestiti nel ciclo produttivo per ristrutturare completamente la fabbrica sono stati portati a detta dalla Guardia di Finanza all'estero. Allora in altre acciaierie in quegli anni sono stati fatti gli investimenti importanti a Tarantono e gli stessi sindacati non hanno premuto il piede sull'acceleratore perché venissero fatti gli investimenti che tra l'altro noi richiedevamo ed erano investimenti importanti. Se fossero stati fatti quegli investimenti 10-15 anni fa probabilmente non saremmo a questo punto, ma proprio perché siamo a questo punto, perché c'è stata la negligenza, noi chiediamo che quegli impianti vengano fermati. Purtroppo questo accadrà secondo lei? Allora ritorniamo all'immagine del ponte di Genova. Se il ponte di Genova fosse stato analizzato prima e fosse stato dimostrato che era pericoloso e fosse stato posto sotto sequestro, sarebbe stato giusto dire che anche se è sotto sequestro il ponte di Genova viene data la facoltà d'uso o è un azzardo? È un azzardo, purtroppo è stata data. Adesso cosa possiamo fare? Quali sono le richieste da fare al governo? Voglio dire tutte le dimostranze Di Maio vi ha fatto sfogare. è proprio così, la finta democrazia di Di Maio è stato un ascolto privo di riscontri, quello che adesso andrà fatto è innanzitutto un serio discorso sull'immunità penale, noi chiediamo che l'immunità penale venga tolta e questa cosa qui prima o poi incroceremo questo discorso, perché i tribunali sono tenuti, i tribunali nazionali, ad applicare il diritto europeo e in nessuna norma del diritto europeo è contemplata l'immunità penale, lo ripeto, ogni magistrato è tenuto, oltre che rispettare la costruzione… Quindi siamo come in Europa, siamo sempre noi a distorcere quelle che sono le regole, perché noi soli non diamo l'immunità penale a chi inquina, noi soli abbiamo delle tasse che in altri paesi non ci sono, mi pare che in Europa solo noi e la Spagna facciamo pagare, noi, sì, noi e la Spagna facciamo pagare le autostrade e sappiamo gli introiti elevatissimi che questo ha e i soldi Benetton, a quanto pare anche loro, diciamo, li hanno messi nei paradisi fiscali anziché fare la manutenzione alle autostrade, ai viagotti e quant'altro. Quindi l'Italia è un po' un paese dove non si pensa al cittadino, ma si pensa all'operazione contingente, ogni governo si deve portare a casa il proprio e poi quando arriva l'altro distrugge per ricostruire, questo mi sembra la storia d'Italia negli ultimi 50 anni. L'Italia è un paese che non ha ancora una cultura della tutela ambientale e della tutela della salute. L'Italia viene dirottata politicamente su altre emergenze. Se ci fossero chiari nei cittadini i principi per cui occorre occuparsi di ambiente, il focus non sarebbe quello dell'immigrazione, ma sarebbe quello dell'ambiente. Noi dobbiamo sapere che in Europa è come se ogni anno cadessero quattro bombe atomiche. Ci sono 400.000 morti in Europa per cause ambientali, soprattutto per le polveri sottili. Di questi 400.000 morti una fetta importante c'è l'Italia. La terza guerra mondiale è questa, insomma. E' una cosa che viviamo in maniera silenziosa, sono morti silenziose. Do un numero. Taranto rispetto a Bari è come se perdesse 1340 anni di vita ogni anno. Cioè sono, non voglio dire le persone che muoiono a 40, 50, 60 anni. Stiamo parlando anche degli anziani che potrebbero vivere fino a 86, 88 anni, che muoiono un anno prima, due anni prima. Calcolando tutti questi spezzoni di vita, 1340 anni di vita persi rispetto a Bari. Bari ha una speranza di vita più lunga rispetto a Taranto. Taranto era la città che aveva la più alta speranza di vita. Cioè si viveva di più rispetto alle altre province della Puglia. Taranto aveva la più alta speranza di vita rispetto alle altre città della Puglia. Oggi è la città con la più bassa speranza di vita. Il fatto che rispetto a Bari, che è la città che ha la più alta speranza di vita in Puglia, noi perdiamo 1340 anni di vita, vuol dire che ogni anno perdiamo 1340 compleanni. Perché Taranto non riesce a ribellarsi, non riesce a scrollarsi di dosso, non riesce a reagire a questa brutta, come dire, questo peso che ormai da tanti anni si porta addosso? Io non ne faccio una colpa ai cittadini. I cittadini hanno fatto a Taranto molto di più di quanto hanno fatto i cittadini di Milano o di Roma. Lo dico non per patriottismo, ma perché è così. I cittadini di Taranto hanno fatto delle manifestazioni con 20-30 mila persone. C'è stato anche referendum. Voglio dire, si sono mobilitate non centinaia, ma migliaia di persone a Taranto. Però la volontà politica non ha mai voluto ascoltare. Quello che è mancato è stato il riscontro politico. Mentre a Genova c'è stata una ribellione della popolazione, delle mamme. E tutta la politica a Genova, dal centro-sinistra al centro-destra, è stata compatta nel chiudere l'alto forno. Lo stesso ex ministro della... Perché anche loro hanno i figli, avevano i figli, avevano i nipoti, avevano le moglie, avevano... Qui è come se non avessero figli. Quindi alcuni politici o alcuni amministratori sembra che loro siano immuni, perché pensano che i soldi possano guarire tutte le ferite. Ma io credo che i soldi non possano guarire proprio nulla. Guardi, è impressionante... Ho detto una cosa... No, è così. Allora, io studiando Dante, ho scoperto che sostanzialmente a Roma c'era un partito, che era quello del Papa, che voleva distruggere Firenze. E a Firenze c'erano i bianchi e i neri. I guelfi e i ghibellini. C'erano i guelfi e i ghibellini, ma poi i guelfi si divisero in bianchi e neri. I neri obbedivano a Roma, i bianchi cercavano di difendere Firenze e Dante era fra i bianchi. È dovuto andare in esilio. Quelli che fecero carriera furono i neri. Questa cosa mi fa pensare un po' a Taranto. Certo. E sì, perché io come ho detto anche nelle altre trasmissioni, comunque Taranto non ho paura a dirlo, non abbiamo più nulla da perdere. Viviamo così, perché tanto domani si muore. Molti se lo dimenticano. Il tempo è l'unica ricchezza che abbiamo. La cosa drammatica sono i bambini. Perché è il bambino. Vorrei avere proprio un attimo per ricordare i bambini. Hanno la probabilità di contrarre un tumore a Taranto con il 54% in più rispetto al resto della Puglia. Io ho dei figli, molti di voi hanno dei figli. Io non capisco perché non vi si rivolta allo stomaco e andate a prendere, diciamo in maniera solo di poesia, a prendere dal bavero chi può fare qualcosa e non lo fa. Io ero a Bruxelles, in uno di quei viaggi che abbiamo fatto, sempre a spese nostre, sempre sottraendo tempo alla nostra famiglia e ai nostri affetti. Abbiamo deciso di andare nel 2013 più volte a Bruxelles e quando ero a Bruxelles ho ricevuto un'email da una mamma. E questa email, me la ricordo ancora perché in questa email c'era scritto andate avanti, fatelo per mia figlia che è nata con due tumori, contemporaneamente a un rene e all'altro rene. Le è stato tolto un rene, all'altro rene le è stato tolto mezzo rene e sta vivendo con mezzo rene. Quando lei mi scrisse e dicendo andate avanti per mia figlia, lì ho percepito tutto il senso di quello che stavamo facendo e tutto il senso del tradimento di cui ci saremmo resi colpevoli se non fossimo andati fino in fondo. Ma la realtà è che gli interessi sono più forti di qualsiasi ideologia. E questa è una questione di cultura, come diceva lei prima, non c'è la cultura della salute, ma anche dell'innovazione. Perché se si spendessero dei soldi per l'innovazione e quindi a Taranto come mai una città industriale tra le più importanti di Europa non c'è mai stato un centro di ricerca per l'ambiente? Le posso dire una cosa? Allora, sarebbe molto importante avere un centro di ricerca per l'ambiente, però oggi noi senza fare nessun centro di ricerca sappiamo che ci sono delle tecnologie che possono essere applicate a Taranto. Ad esempio tutte quelle nuvole bianche che escono fuori a cadenza di mezz'ora l'una dall'altra dal quartiere Tamburi, sono le nubi di spegnimento del carbon coq che non è solamente vapore acro ma c'è tanta roba dentro, tutto quello potrebbe essere tolto definitivamente attraverso un sistema che si chiama spegnimento a secco del coq. Allora oggi ho voluto vedere su LinkedIn se ci sono dei tecnici che fanno lo spegnimento a secco del coq, cioè degli esperti, ho trovato un ingegnere di cui non voglio fare il nome che per sperimentare questa tecnologia che è già comunque consolidata andava in India, cioè oggi questo ingegnere che installa con una grande multinazionale questi sistemi per lo spegnimento del coq va in India a fare lo spegnimento a secco del coq e io mi chiedo perché questi ingegnere... Negli impianti di Arcelor Mittal o di Gintal? No, di altri impianti, non c'era scritto, però mi ha colpito il fatto che lo spegnimento del coq a secco che dovrebbe essere fatto a Taranto viene sperimentato in India e ho scoperto che in India e in Cina e in del Sud sono già diversi gli stabilimenti siderurgici che hanno ormai installato questa tecnologia che consentirebbe di evitare queste... Allora, Marescotti abbiamo tutti capito che ci deve essere la volontà politica, la politica può fare tutto, la politica è quella che dà poi mano alla forza lavoro, alla forza economica e quant'altro. Di Maio ha un impegno con questa città che non può declinare, Di Maio ha detto che verrà Taranto, verrà a parlare con i tarantini, stiamo ancora aspettando, io intanto invito se mi stanno ascoltando o loro o i loro amici, i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti eletti dai tarantini che si facessero sentire, io chiamerò anche domani alcuni di loro perché li voglio in trasmissione... Noi sono disponibili. E magari con il confronto anche con Alessandro Marescotti, anche oggi volevo il confronto tra Mancarelli e... Io sono disponibile a venire in bicicletta... Vengo in bicicletta ogni volta che c'è un parlamentare e sono disponibile pacatamente a confrontarmi perché non ho ancora capito per quale motivo stanno zitti. E lo so, glielo chiederemo, probabilmente in questo momento non possono parlare, magari Di Maio ha l'asso nella manica, ma io... Quale manica? Non lo so, la terza, non lo so. Perché di manica ci sono i filtri a manica, che sono proprio quelli che dovrebbero tagliare la diossina. Lo so, non lo so. Io di solito, se non rispondo al telefono qualche volta, è perché dall'altra parte l'interlocutore che mi sta chiamando aspetta una risposta da me che in quel momento non posso dargli e quindi non gli rispondo. E io penso sia la stessa cosa per Di Maio, in questo momento. Non sa neanche lui cosa poter rispondere e così anche i parlamentari. Ma noi vi vogliamo... Voi siete i nostri amici o non siamo più amici? Se vi abbiamo mandato lì al Parlamento e l'amicizia è svanita così... Per qualche... Voi sono portavoce di che cosa? Dei cittadini o di altri? Io non voglio attaccarli. Voglio capire assieme a loro come poter fare qualcosa per questa città. Cioè il loro assordante silenzio è ingiustificato. E comunque se vengono qui io sono disponibile a parlare... Ma assolutamente. Dovrò allargare gli studi. Io purtroppo, visto come sono smart, inquino di meno. Essendo smart abbiamo fatto la stessa... Più smart si è, più si inquina. Quindi chiederemo alle loro vive, dalle loro vive voci... Anche perché io leggo sui loro profili Facebook che fanno tantissimi incontri. Ma non li fanno a Taranto. Questa cosa è inquietante perché avremmo bisogno di... Allora c'è stata una manifestazione qualche settimana fa di un gruppo di cittadini che... Che è il PAS, questo movimento spontaneo nato da qualche cittadino. E si è presentata all'onorevole Rosalba De Giorgi ed è stata accolta in malo modo. Questo non è proprio il modo di fare di cui abbiamo bisogno. Perché lei magari voleva andare a parlare... Però i cittadini giustamente e ingiustamente sono arrabbiati perché non hanno interlocuzione. Non riescono più ad avere il senso d'orientamento su cosa succederà e cosa accadrà. Hanno solo scoperto il 15 di settembre che Arcelor Mittal è arrivato a Taranto. Che ha cominciato a produrre, ha cominciato a comandare l'impianto. Però io dico questo, chiaramente l'onorevole Isabel De Giorgi si è resa conto che i cittadini non sono tutti uguali e non capiscono, oddio, non sto dicendo una parolaccia, non capiscono. Non riescono ad entrare nel meccanismo burocratico perché le cose non si possono fare in 10 minuti. Non è che si può cancellare una norma o si può sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa così con un colpo di spummia. Il PD riusciva a fare i decreti un giorno. Ma Renzi non è uno normale. Il PD era velocissimo nel fare i decreti. Io ricordo che andai dal prefetto per chiedere l'applicazione nel 2013 della prima sanzione nei confronti dell'ILVA. A 10% del fatturato il prefetto mi accolse e mi disse lei c'ha ragione ma stiamo aspettando un decreto che arrivò il giorno dopo e che tolse la sanzione. Cioè il PD era velocissimo nel fare i decreti. Marescotti non abbiamo solo il problema delle polveri, dei fumi e del coke ma abbiamo anche un grosso problema, il grosso problema delle discariche. Allora, che cosa ci offre a livello ambientale? Cosa respiriamo quando sentiamo che ormai si è preso il vizio di dire c'è un'emergenza odorifera, odorigena? Che cosa significa emergenza odorigena? Che è solo profumo, è solo odore o c'è qualcosa di più? Beh, ovviamente ci può essere molto molto di più. In questo momento diciamo che l'emergenza ambientale si è spostata soprattutto a nord verso Statte. E dobbiamo... Italcave si è allargata? Così, come se fosse un parco giochi per bambini che non riusciva più a contenere i bambini e ne è allargata l'estensione? Nel momento in cui un territorio si specializza in un certo settore che è quello dell'industria pesante, delle discariche, sembra attirare altre attività consimili. Di cosa arriva nella discarica di Statte? Lo sappiamo? Sappiamo con certezza quali rifiuti oltre a quelli... Qui vorrei lasciare la parola al comitato che se ne occupa in maniera specifica. No, io l'ho chiesto l'altro giorno, però non siamo entrati... Io lo volevo fare oggi con Luciano De Gattore e con Mancarelli. Vorrei diciamo... Ti saluto, se potete intervenire, Mancarelli, se lei è all'ascolto, ha il mio numero, può anche chiamarmi. O chi sta ascoltando dei politici o dei sindacalisti o chi sa qualcosa. Vorrei fare un discorso generale sulla zona di Statte, perché è stata riscontrata una contaminazione sia del terreno che della falda, della falda superficiale e della falda profonda. E questo è un fatto gravissimo, perché quando l'inquinamento arriva nella falda profonda, probabilmente siamo arrivati a toccare il fondo. E quando viene bloccata l'attività agricola perché i pozzi sono contaminati, vuol dire che abbiamo pregiudicato il futuro di Statte. E quando vediamo che Statte ha un eccesso di malati, ha un eccesso di criticità sanitarie, è perché della gente ha vissuto in un territorio contaminato, ha utilizzato pozzi contaminati, ha irrigato con quei pozzi contaminati. E ha mangiato. E ha mangiato. E allora, e questa è un'altra emergenza, per cui ci siamo soffermati giustamente sull'emergenza dei camini, della fabbrica, eccetera, però c'è giustamente da dedicare un'altrettanto forte attenzione sulla questione delle discariche. In particolare, io focalizzerei l'attenzione sulla discarica Mater Grazie. Che è all'interno della... E al nord dell'Ilva. E dalle carte che io ho letto è la discarica dove sarebbero stati stoccati i rifiuti che provenivano dall'impianto di agglomerazione. Ossia, tutte le polveri con la diossina, che erano fortemente contaminate, oggi lo sono ancora di più, quelle polveri con la diossina venivano stoccate. Io questo ho letto nella relazione Pecorella, proprio nella Mater Grazie. C'è Max Ferrini che ci sta dando argomenti, ti saluto Max, ma stiamo parlando proprio di questi qua, lui ci parla anche dei rifiuti radioattivi della Cemerad, che ancora sono lì. C'è la questione della Cemerad. Cioè, voglio dire, quando... Allora, si parla tanto di riconversione a Taranto, ma se si continua sul vecchio modello, altro che riconversione, noi continueremo ad attirare attività con simili, avremo l'esatto opposto della riconversione. La contaminazione delle polveri da diossina è un fatto molto grave, perché adesso noi abbiamo un problema di gestione di tutte queste polveri. Siamo circondati, perché poi sulla strada, per andare a Massafra, abbiamo altre discariche, abbiamo l'inceneritore, e hanno disboscato un'intera area per poter fare altro spazio per l'immondizia. Quindi stiamo deturpando il territorio, mangiandocelo, come se fossimo dei... Stiamo creando un marchio che finisce per marchiare la stessa agricoltura, perché... Vabbè, l'agricoltura ormai... Ma parliamo della parte dell'agricoltura che si può ancora salvare, e che quando dichiara la propria provenienza, non dichiara mai provenienza a Taranto. Forse Taranto non ha contezza, non ha percezione di questa realtà. Probabilmente i cittadini non hanno percezione del pericolo in cui vivono. Sono rassegnati, che cosa? Diciamo che è solamente recente la capacità di collegare i problemi ambientali a quelli della salute. Una parte dei cittadini ha compreso che l'inquinamento ambientale finisce anche nel cavolfiore, nel latte, nel formaggio. E che avere una... Ad esempio, la prima cosa che noi incominciamo a tenere sott'occhio è quella del latte. Tant'è che non abbiamo più la centrale del latte a Taranto. Sì, però va detto una cosa... Che non è per quel motivo. Voglio rassicurare alle persone che bevono il latte, il latte da quello che... Sono state le indagini che abbiamo fatto, è sicuro a Taranto, il latte bovino. Però ecco, siamo stati noi che abbiamo, in un certo senso, provocato le autorità perché facessero un controllo... C'è anche Fabio Madacchiera che ha fatto fare analisi alle... Sulle cosse... Sulle cosse, anche sulle mamme per l'allattamento. Certo. Quindi anche la diossina all'interno del latte materno. Questa è una cosa terribile perché quando una... E l'hanno trovato diossina nel latte materno. Quando una donna allatta un bambino, dopo il primo, il secondo e il terzo figlio, si è pulita della diossina che ha accumulato... E l'ha trasmessa al figlio. E l'ha trasmessa ai tre figli. Mentre noi, che siamo maschi, non abbiamo la possibilità di depurarci. Accumuliamo la diossina man mano che mangiamo sostanze che possono contenerla. E proprio di questi giorni, glielo dico perché ne sto vivendo, è arrivata a casa, per quanto riguarda mio figlio, un questionario da compilare perché nelle scuole stanno facendo delle indagini sulla permanenza o sull'insistenza di diossina all'interno del corpo dei bambini. E hanno, ci hanno fatto firmare delle carte per poter fare delle analisi in alcune scuole, nella scuola di mio figlio che è l'Alfieri, proprio per monitorare il livello di diossina o di tossicità all'interno del corpo dei bambini durante la crescita. E pare, no, non pare perché l'ho letto, che le due città più sensibili e più inquinate dalla diossina siano Brescia e Taranto. Brescia e Taranto hanno quasi gli stessi valori di inquinamento da diossina. Taranto ha superato Brescia. Taranto ha superato Brescia. Allora, diciamo questo, che l'attenzione che viene posto dall'Istituto Superiore della Sanità su Taranto è un'attenzione particolare. È brutto da dire, ma l'inquinamento può avere un impatto anche sulla capacità di attenzione, sulla capacità di apprendimento. Io sono insegnante e queste cose le vedo. Ci sono ragazzi particolarmente irrequieti, che non riescono a stare attenti. Non tutto deriva dalla semplice situazione familiare, sociale, l'estrazione. C'è una componente organica che noi abbiamo percepito come insegnanti così, in maniera a pelle, istintiva. Ma gli studi che l'Istituto Superiore della Sanità ha portato avanti su Taranto hanno purtroppo dimostrato che i bambini che vivono vicino all'area industriale hanno un quoziente di intelligenza più basso. E quando parliamo di un quoziente di intelligenza più basso non stiamo dicendo che sono stupidi. Assolutamente no. Stiamo dicendo che quei bambini sarebbero potuti arrivare a risultati migliori se avessero avuto una condizione diversa, se non avessero impattato nel loro sviluppo cognitivo fin dalla fase fetale in inquinanti importanti che possono pregiudicare o possono danneggiare o possono rallentare quella che è la capacità di formazione del sistema nervoso. Ci sono degli studi che sono stati fatti ad esempio in Cina per cui i bambini che nascevano vicino a una centrale a carbone avevano delle risposte ai test di intelligenza diversi rispetto ai bambini che nascevano lontani dalla centrale a carbone. I bambini che nascono a Talsano hanno un quoziente di intelligenza 10-15 punti più alto rispetto ai bambini che nascono nel quartiere Tamburi. Quando gli studiosi hanno visto questi risultati hanno incominciato a vedere in questo un segno dell'impatto ambientale. Per cui se prima abbiamo detto che i bambini subiscono a Taranto una maggiore probabilità di ammalarsi di tumore, ci sono altri aspetti che sono stati studiati solamente da poco e che ci dicono che i bambini subiscono l'inquinamento e che questo inquinamento pregiudica il loro risultato scolastico o ne rallenta il successo. Questo non significa, voglio ben chiarire, che un bambino che nasce al quartiere Tamburi non possa arrivare all'università e diventare anche un docente universitario. Questo assolutamente no. Però le probabilità di successo sarebbero di gran lunga. maggiori se vivessero in un ambiente sano e non inquinato. È brutto da dire ma è così. È brutto da dire ma è la sacrosanta verità. Il problema è che chi sapeva di tutto ciò e ha taciuto e ci è passato sopra, vuol dire che è passato sopra, brutto dirlo, tanti cadaveri. È passato sopra a tante situazioni brutte. Non parliamo delle morti bianche da lavoro quindi che quell'impianto ha prodotto negli anni. Stiamo parlando di una mezza guerra. Insomma, Taranto... A Taranto per fare politica e fare carriera bisognava stare zitti. Io ho fatto uno spot. bisognava stare zitti. Cioè il silenzio è servito a fare carriera. Queste cose che dico le dovrebbero dire tutti i politici perché sono le cose che tutelano il territorio. Io non credo che loro non le sapessero. Io credo che semplicemente non le volevano dire perché questo avrebbe pregiudicato la possibilità di fare una buona carriera. Questo è quello che penso io. Potrà sì che mi sbagli, ma è la mia opinione. È il gioco del silenzio. A Taranto ormai ci si può aspettare veramente di tutto. Taranto è una bellissima città, lo sappiamo tutti. Ce lo dicono sempre gli altri, ce lo dimostrano tutti i giorni. Siamo stati oggetto di un periodo bellissimo con le riprese di questo film che ha lasciato un bel ricordo a questa città, sperando che noi li ne abbiamo lasciato altrettanto. Tranne anche Michael Bay ha detto peccato che avete questo impianto a ridosso della città perché questa città è veramente stupenda e ha detto anche che ci ritornerà. Allora, Alessandro Marescotti. Per oggi ci fermiamo qui perché ce ne sarebbero di cose da dire. Però se non abbiamo gli interlocutori che possano dare delle risposte, che possano accogliere delle domande, che possano farsi portavoce con il Ministro, il Vice Premier, il Premier, l'Assessore alla Sanità, scusi, il Ministro alla Sanità, il Ministro all'Ambiente, Costa, la Ministra Grillo e quant'altro farsi portavoce veri della città di Taranto, portando quelli che sono le croci che Taranto ha addosso ormai da troppo tempo e che ha bisogno di cominciare a scorrarsene qualcuna. Io per oggi, prego, vuole concludere, ci studiamo. Può darsi che ho detto anche delle cose sbagliate, però mi piacerebbe che i politici che ritengono che io abbia detto delle cose sbagliate vengono qui e facciano con una buona interlocuzione alla loro dimostrazione. Io purtroppo vivo questa solitudine, la solitudine di chi porta avanti insieme a tanti cittadini, perché ci sono cittadini che ti sostengono e questo fa molto piacere, ma la solitudine nei confronti della politica, una politica che sembra quasi un muro di gomma. Pensavo che la politica fosse un muro di gomma da una parte, ma vedo che anche dall'altra parte è un muro di gomma che ti respinge, che sembra dire tu non conti niente. Il concetto di sovranità, che è la base della Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione e che doveva essere la base di una nuova politica, sembra naufragare proprio in questo silenzio, in questo respingimento. Mi piacerebbe che, ed è possibile ovviamente, mi piacerebbe che se io sbaglio, se io ho detto delle cose non corrette, ci sia qualcuno che me le faccia notare che sia a vi un contraddittorio, un confronto pacato. Chiamerò queste persone, farò sapere anche se hanno accettato o meno, perché il non accettare è una risposta. Posso sbagliare, però almeno parliamo. No, dico anche se non accettano, è una risposta che significa che non sanno cosa dire in questo momento. Quindi io spero che possa venire direttamente Di Maio a Taranto, innanzitutto a dare informazioni reali su quello che stanno facendo per questa città, perché da quando si è chiusa questa questione di Taranto non si parla più, non siamo più sui telegiornali, se non per… una cosa mi fa piacere, che oggi quando vai a fare una ricerca su Google Taranto non esce più per la diossina, per i morti da tumore, eccetera, eccetera, esce per una certa nave Kismet che ha sostato per qualche giorno qui. Questo vuol dire che le cose oggi possono cambiare anche molto velocemente. sì. E la gente dimentica abbastanza velocemente quando tu ad un evento catastrofico li proponi un evento di grande felicità e grande coinvolgimento. Certo. Va bene, Mariscotti starei a parlare qui ore e ore, però faremo in modo di avere delle risposte più precise, di avere delle lucidazioni e di porre delle domande e cercare di avere delle risposte risolutive. La politica risposte risolutive, io… Basterebbero delle risposte. Le risposte. Le risposte. Le risposte. Abbiamo fatto una domanda al governo, cioè quanti morti prevede con l'aumento della produzione di 8 milioni? Non c'è risposto. Non c'è risposto. Poteva dire, guardate, vi state sbagliando, non ce ne sarà nemmeno uno. Certo. La risposta è stata il silenzio. Quello di cui pare si stia parlando in questi giorni in Ilva è solamente la questione dell'occupazione. Cioè stanno cercando di capire quanta gente può andare, deve andare via. Io so di tanta gente che prenderà l'indennizzo e la buon'uscita e scapperà via da quella azienda, quindi avranno il loro risultato comunque. Anche perché fra dieci anni quell'azienda non è detto che avrà migliaia e migliaia di occupati. Assolutamente. C'è un'acciaieria che hanno fatto recentemente negli Stati Uniti e che ha solamente 800 lavoratori. E produce? E produce meno dell'Ilva, produce diciamo 4 volte meno dell'Ilva. Due tonnellate. Milioni di tonnellate. Però i processi di automazione su cui Arcelor Mittal si sta specializzando sono processi di automazione, si chiama Industria 4.0, che hanno un enorme futuro. Quella che era considerata la fabbrica, il comparto che dà lavoro a tutti non sarà più così. Grillo ha ragione, con l'automazione e con queste cose il reddito di cittadinanza diventa prioritaria per tutta la popolazione mondiale, perché è un grosso problema. Ci sono alcune cose che non potranno essere automatizzate, il turismo ad esempio non potrà essere automatizzato. Però il turismo è divertente, per chi lo fa e per chi lo riceve. Ma il comparto siderurgico andrà verso un'automazione talmente spinta che attualmente le cocherie della Posco occupano solamente 14 lavoratori. Addirittura. Questo è il futuro. Allora, l'uomo è nato non per soffrire, ma per vivere questi pochi anni di vita, perché poi gli anni passano velocemente, su questa magnifica terra, baciato da questo stupendo sole, vedere queste bellissime stellate e vivere la propria vita nel miglior modo possibile. Se deve soffrire per vivere, uno è meglio a non vivere, non nasce. Quindi, se il sistema globale diventa di autosostentamento e distribuzione equa per tutti, che è una formula di comunismo, mi sembra. Adesso lo possiamo anche chiamare sviluppo sostenibile. Quindi, si potrebbe vivere tutti bene, non vedo perché uno deve vivere meglio dell'altro quando abbiamo tutti la stessa possibilità. È bella la competizione, è bello il fatto che uno ha delle caratteristiche più imprenditoriali, altri no, però, visto che viviamo in maniera comune... Basterebbe puntare sulla bellezza. La bellezza. La bellezza fa nascere cose belle. E purtroppo io vedo che il sabato la gente a Taranto abbandona Taranto per andare in posti belli. Non che Taranto non sia bella, ma potrebbe essere avvertito il flusso, anziché fuggire da Taranto, venire a Taranto. Ma è l'elemento della bellezza che noi stiamo distruggendo. Va bene, con questo la bellezza invece la recupereremo, Malescotti. Io vi do appuntamento alla prossima, probabilmente domani vi daremo informazioni su un'altra puntata di Io Radio e restiamo in attesa di avere contatti con gli onorevoli eletti del Movimento 5 Stelle a Taranto per ascoltarli, per fare una bella chiacchierata con loro. Intanto io ho chiamato anche l'unico ormai consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle che in questo momento per motivi personali non è potuto venire, però sentirò anche lui e tanti altri. Vi ricordo che da oggi in poi, fino al 31 ottobre, c'è questa questione della provincia e quindi c'è l'elezione al nuovo Presidente della provincia, pare che siano state, io non ho ancora la notizia certa, però pare che la contesa tra Melucci e Gugliotti sia di 85 punti a Melucci e 180 circa a Gugliotti. Quindi sembra che la partita sia già chiusa, ma di questo ne parleremo probabilmente, anzi quasi sicuramente domani. Vi do appuntamento alla prossima, grazie Alessandro Malescotti che è stato con noi oggi. Buon proseguimento e buona serata.